Ciclista Il cadavere rinvenuto al lago di Bilancino, forse il canoista pratese scomparso nel 2016 Il Vescovo Agostinelli presenta gli obiettivi della chiesa pratese, ripartiamo dall'annuncio di Cristo insieme Stadio Lungo Bisenzio, il comune pubblica l'avviso per mettere a bando la gestione dell'impianto Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale delle 13.45 Tragedia intorno alle 11.30 sulla SR325 a circa 2 km dal centro abitato di Montepiano prima della Cantoniera Un ciclo amatore pratese di 61 anni è morto mentre era in strada insieme ad un gruppo di altri ciclisti Da approfondire la dinamica, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo che stava bevendo da una borraccia Potrebbe aver perso il controllo della bici cadendo rovinosamente a terra e sbattendo la testa sul guardrail Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo sul posto Nonostante gli sforzi del 118, il ciclista che indossava il regolare caschetto è deceduto Pare che nel momento della caduta il 61enne fosse rimasto indietro rispetto al gruppo di amici Sono intervenuti per i rilievi del caso e per regolare il traffico anche Polizia Municipale della Vallata e Carabinieri Il tratto di strada è stato completamente chiuso al traffico per circa mezz'ora per favorire le operazioni di trasporto La strada è stata poi perfettamente riaperta Potrebbe essere di Romano Giusti il corpo senza vita recuperato ieri sera dai vigili del fuoco al lago di Bilancino Due anni e mezzo fa l'uomo di Prato non fece ritorno a casa dopo un'escursione in canoa sul lago Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato ieri sera al lago di Bilancino a pochi metri dalla riva E' presto per dirlo con certezza ma potrebbe trattarsi del corpo di Romano Giusti L'ottantenne canoista pretese scomparso nel lago nel marzo del 2016 Sul posto sono intervenuti in seguito a una segnalazione i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo Assieme ai vigili del fuoco del distaccamento locale con i colleghi del comando di Firenze e del nucleo sommozzatori Il corpo recuperato è quello di un uomo vestito con abbigliamento da canoista Un particolare che lascia presumere agli inquirenti che si possa trattare di Romano Giusti L'uomo scomparve la sera del 5 marzo del 2016 proprio al lago di Bilancino Quella sera Giusti non fece ritorno a casa a dare l'allarme Fu la moglie, le ricerche dell'uomo portate avanti per giorni anche con l'ausilio di una squadra di sommozzatori Diedero esito negativo, venne rinvenuta la canoa ribaltata di Giusti ma di lui nessuna traccia A questo punto non resta che attendere gli accertamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere rinvenuto Per scoprirne l'identità Camminare insieme ripartendo dall'annuncio di Cristo E' l'indicazione contenuta nel nuovo piano pastorale della Chiesa di Prato Presentato ieri sera dal Vescovo Agostinelli al tradizionale convegno che segna l'inizio delle attività della diocesi Intervistato dal direttore Gianni Rossi Monsignor Agostinelli spiega qual è il cammino che attende le parrocchie pratesi in questo anno pastorale appena cominciato Eccellenza, un nuovo piano pastorale c'è bisogno per la Chiesa diocesana di tracciare le linee ancora una volta di un cammino? Sì, io credo che ce ne sia sempre bisogno in qualsiasi tempo e in qualsiasi momento all'inizio di ogni nuovo anno pastorale Direi che in questo periodo ce ne è particolarmente bisogno perché la Chiesa sta attraversando un tempo non facile Per cui c'è bisogno di dare delle linee, di dare degli indirizzi a cui tutta la Chiesa locale deve fare riferimento L'appello dunque è quello di lavorare insieme, rivolto alle parrocchie, rivolto a tutte le realtà del mondo ecclesiale L'appello è quello di lavorare insieme, anzi direi che questa è una condizione inderogabile e irrinunciabile Lo è oggi e lo avvertiamo nel nostro lavoro quotidiano, nel nostro lavoro pastorale E lo sarà senz'altro nell'immediato futuro, non fra vent'anni ma nell'immediato futuro Se saremo capaci di superare quell'individualismo che corrode la vita della società e talvolta non risparmia neanche della vita della Chiesa Se saremo capaci appunto di lavorare insieme, di coordinare le nostre differenze e di portare il contributo che ognuno di noi sa portare Se non c'è questo andremo poco lontano Ripartire da Cristo per dare nuova voce al Vangelo, come si fa a ripartire da Cristo sempre? Questo io credo che sia una revisione di vita che deve riguardare tutti noi Prima di tutto deve riguardare noi della Chiesa La prima conversione è la Chiesa che deve fare Io credo che fra non molto, ma molto dico nello spazio di pochi anni In Chiesa rimarrà soltanto chi ha avuto l'avventura, la fortuna e la decisione di fare una seria esperienza di fede Questi rimarranno, gli altri non ci saranno più Questo anno ha anche un sapore particolare perché sarà l'ultimo anno pastorale con lei qua a Vescovo a Prato Ma così si dice, io mi sono fatto prete per servire la Chiesa E sono sempre stato pronto a servire la Chiesa Ho scelto una volta sola nella vita quando mi sono fatto prete Ho scelto di diventare prete, di rispondere a questa vocazione Poi ha scelto la Chiesa e io sono qui La Chiesa se mi dice di andare io vado, se mi dice di restare resto Certo, dal punto di vista del diritto, io so che il primo gennaio 2019 dovrò per quel giorno aver già presentato le dimissioni Cosa che farò? Poi sarà la Chiesa a dirmi quando, se, come, eccetera Il discorso può avere un proseguimento Lungo Bisenzio, il Comune pubblica l'avviso per presentare la richiesta d'uso dello stadio Il termine scade il 26 settembre È stato avviato dal Comune il procedimento per la concessione in uso dello stadio comunale Lungo Bisenzio per la stagione sportiva 2018-2019 Le richieste potranno essere presentate secondo le modalità previste dall'avviso pubblicato sul sito del Comune nella specifica sezione avvisi, ovvero presso il protocollo generale in Piazza del Pesce presso l'ufficio Sport in Via Santa Caterina tramite Pecco per email entro le 13 di mercoledì 26 settembre L'avviso è rivolto a federazioni sportive affiliate al CONI enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI istituzioni scolastiche, associazioni sportive direttantistiche società sportive professionistiche, associazioni sportive studentesche o gruppi sportivi scolastici, infine associazioni del tempo libero Il Comune ha deciso di procedere al bando per l'uso dello stadio a seguito della querelle con l'ACI Prato che negli ultimi anni ha gestito il Lungo Bisenzio L'amministrazione è arrivata allo sgombero 4 della struttura dopo che il presidente del Prato, Paolo Toccafondi si è rifiutato di restituire le chiavi a seguito del mancato rinnovo della concessione Due giovani sono state denunciate dai carabinieri per aver rubato l'orologio ad un anziano residente in città La vicenda risale allo scorso giugno quando un 76enne pratese era stato avvicinato mentre rientrava a casa dalle due donne che con un pretesto lo avevano distratto sfilandogli l'orologio dal polso per poi fuggire L'uomo aveva presentato denuncia ai carabinieri Gli accertamenti condotti dai militari dell'arma hanno permesso di risalire alle due giovani entrambe nomadi rumene senza fissa dimora con precedenti per reato contro il patrimonio Nei loro confronti è scattata la denuncia per furto con strappo Quattro giovani artisti racconteranno il Macrolotto Zero con un progetto fotografico è il bando lanciato dall'associazione Dry Photo grazie ai contributi di regione comune Il Macrolotto Zero raccontato da quattro fotografi under 35 provenienti da tutta la Toscana è il bando lanciato dall'associazione Dry Photo che al Macrolotto Zero in via delle Segherie da anni ha posto la sua sede Il progetto si chiama La Via della Cina un titolo che ricorda la Via della Seta la rutta commerciale che ha messo in comunicazione l'Oriente e l'Occidente ma soprattutto il nome con cui Via Pistoiese è conosciuta tra i cittadini cinesi Grazie ai contributi di regione toscana e comune di Prato i quattro giovani fotografi lavoreranno in residenza per dieci giorni per produrre una documentazione emotivamente evocativa che interpreti il fenomeno della migrazione cinese Penso sia uno dei posti più fotografati del mondo da quando noi siamo lì sono arrivati da tutte le parti d'Italia dagli Stati Uniti, da tutte le parti d'Europa però diciamo che il loro approccio è sempre stato strumentale nel senso che è arrivato nel Macrolotto fotografava perché stava facendo una tesi sul Macrolotto oppure doveva fare una denuncia invece per noi chiamare questi quattro fotografi significa fare una ricerca, un'indagine sul quartiere per cui loro faranno in maniera autonoma discutendo anche col curatore dei lavori sul quartiere come se ridisegnassero la geografia attraverso le immagini e le fotografie di quel quartiere Il progetto è a cura di Filippo Maggia e le candidature dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 settembre 2018 i nomi dei vincitori saranno resi pubblici entro il 5 ottobre il periodo di residenza e dal 20 al 30 ottobre 2018 bando e modulo di partecipazione sono già disponibili sul sito www.dryphoto.it Presentata l'edizione 2018 della tradizionale festa di San Michele a Carmignano i quattro rioni di Carmignano tornano a sfidarsi il 28, 29 e 30 settembre si rinnova la festa di San Michele in onore del santo patrono del comune Mediceo il primo appuntamento con le sfilate folcloristiche dei quattro rioni bianco, celeste, giallo e verde per la sera di venerdì 28 settembre con inizio alle 21 una sfida a colpi di teatro in strada che per regolamento deve avere un tema legato al paese a conclusione delle sfilate ci sarà la prima corsa del Palio dei Ciocchi il bis il giorno dopo con la manifestazione preceduta alle 21 dal corteggio storico domenica 30 settembre il grande finale con un'intera giornata di festa alle 10.30 il corteggio storico a cui seguirà la celebrazione della Santa Messa nel pomeriggio alle ore 16 il terzo ultimo appuntamento con le sfilate e il Palio al termine del quale verranno decretati i rioni vincitori delle due competizioni il trofeo in Palio per le sfilate del San Michele è offerto per il terzo anno consecutivo dall'antica osteria dei mercanti di Carmignano si tratta di una scultura in legno d'acero realizzata dallo scultore Carl Demetz raffigurante San Michele e l'arcangelo guerriero patrono di Carmignano con una bilancia che simboleggia la giustizia il rione che invece con il suo fantino avrà totalizzato il punteggio maggiore al termine delle tre corse si aggiudicherà l'ambito Palio come ogni anno si realizza questo evento nonostante tutte le difficoltà nonostante l'impegno che serve per mettere in campo la sfilata e poi il Palio l'impegno organizzativo, l'impegno di produrre ogni anno una storia originale, nuova, diversa anche quest'anno siamo nuovamente pronti a trasformare il nostro territorio, la nostra piazza in un teatro popolare aperto a tutti il biglietto d'ingresso per la festa acquistabile direttamente all'entrata a un costo di 6 euro con una novità con l'aggiunta di un euro al biglietto d'ingresso della festa del San Michele con l'aggiunta di solo un euro si può entrare sino al 31 ottobre al museo archeologico di Artimino e quindi anche far conoscere altre parti del territorio nei tre giorni della festa non sarà permesso introdurre all'interno dell'area della manifestazione oggetti di vetro e lattine per motivi di sicurezza per raggiungere Carminiano invece saranno messi a disposizione bus navetta gratuiti con partenza dai parcheggi scambiatori di Siano e la Serra Siamo giunti al momento delle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma Buongiorno e ben ritrovati con le previsioni mete a cura del Consorzio Lamma come possiamo apprezzare dal satellite un'area depressionaria molto ristretta interessa il tirreno centro-meridionale con i suoi effetti più evidenti sulla costa sarda e sulla parte più occidentale del Lazio e della Campania con piogge anche di forte intensità e venti piuttosto sostenuti venti a circolazione ciclonica mentre tra la Toscana e l'arco alpino splende il sole un po' ovunque con tempo praticamente estivo andiamo a vedere il proseguo di oggi ancora poche nubi soprattutto sul nord qualche addensamento in più nel pomeriggio sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto qualche rovescio breve temporale tra Metallifere e Montamiata temperature fino a 30-31 gradi venti da nord-est tra debole e moderati temporaneamente di Scirocco sulla costa maremmana dove i mari saranno mossi soprattutto a largo a sud dell'isola Deba poco mossi altrove nel corso della giornata di domani non cambierà molto tempo stabile, praticamente estivo sereno, poco nuvoloso solo qualche addensamento in più nel pomeriggio come di consueto sui rilievi tra le province di Arezzo e Montamiata qualche breve locale rovescio comunque poco rilevante temperature praticamente estive tra 30 e 32 gradi di massima nelle pianure interne un paio di gradi in meno lungo la fascia costiera è tutto, grazie per l'attenzione Il telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione è per questa sera alle 20.30 grazie per essere stati con noi arrivederci